questo sì che è un bel test no, non entra l'audio però dashboard non mi sentite vero? non vedo i led andare funziona? non lo scopriremo mai dal vivo no, non c'è audio ah sì c'è audio ma è questo? potete confermarmelo? no, non c'è audio no, sì c'è audio ciao, no mi bevo una birretta i brani audio sento soltanto quelli dei Patreon ormai non faccio più live pubbliche in cui ascolto brani perché vi incazzate non sapete stare oggi mi bevo una birretta scusate, volevo provare semplicemente è un test questa è una Sony ZV1 che entra direttamente via USB in un vecchissimo MacBook Air e sta andando direttamente nell'app di YouTube voi vedete la chat a schermo no però la vedete sotto esatto la vedete nella la vedete nell'applicazione di YouTube birra belga abbiamo una Leffe Blonde questo microfono Newer si può usare su un palco per un live? no no questo qui in particolare non è il massimo nel senso dal punto di vista del di quanti SPL può reggere al massimo su un palco con ogni probabilità andresti andrebbe in overload andrebbe in clip la capsula interna come si sente tra l'altro perché questo è il preamplificatore della videocamera può essere? tra l'altro funzionerà la modalità mostra il prodotto guarda che sfocato che fa sta videocamera guarda che roba mamma mia che quanta qualità e uscimi questa Leffe Smash un po' laghi lo stream può essere è una Sony ZV1 con il wide angle della Newer però le monolith 1070 le ho provate per letteralmente 10 minuti da un collega che le ha prese e non so dirti se sono effettivamente fichissimissime come le 1060 ma soprattutto le 1070 non sono comprese in molti software di correzione ok purtroppo le 1060 essendo molto più diffuse anche per colpa mia posso immaginare perché comunque vedo le statistiche di Amazon potrebbe essere colpa mia e sono molto diffuse le trovate in tantissimi software di correzione colore ambrato piscio non marroncino come a gubbio è un po' lunga questa barba sono un po' sono un po' lungo all maple sound sono completamente diverse sono delle cuffie che non c'entrano niente uno con l'altra free clip smash ho un 5.1 della Samsung di merda collegato rcrc alla mia hd 404 c'è latenza in uscita c'è qualcosa che posso fare no purtroppo le soundbar hanno al loro interno le dsp che generano latenza con obs non riesco a catturare l'audio di guitar rig è perché probabilmente hai fatto qualche casino di uscita e ingressi probabilmente stai prendendo l'ingresso di guitar rig e non l'uscita di guitar rig tu dovresti in guitar rig dire di uscire da un virtual audio cable e in obs prendere l'audio virtual audio cable una moto per uno che inizia indubbiamente la quel grandissimo cesso che però ha senso della dell'Himalayan l'Himalayan 400 per iniziare è perfetta secondo me ti diverti come un bambino è leggera tocchi bene la puoi maltrattare la butti per terra non te ne frega un cazzo ci sta nuovo disco di verdena suona bene ma non ho ancora capito se mi piace ma io è perché sono troppo fan di verdena e mi piace le robe vecchie di verdena ho una monster anche che l'ha scritto sì con le vecchie però le monster vecchie proverò la nuova scheda di inv no no troppi soldi chi se ne frega che telefono uso come daily driver ho preso ricondizionato un pro 11 l'ho preso grado c quindi quello con che ha le righe è tutto rigato è tutto rovinato ma l'ho pagato poco e fa paura signori cheers se vi state scassando una birretta per quanto industriale sicuramente piacevole smash smash comunque no l'ascolto al momento è riservato solo ai patron dei brani consigli su fiverr su fiverr l'unica cosa che conta veramente è fare una gig bella nel senso un bel video di presentazione una bella descrizione cioè guardati le tipo le gig della gente di secondo livello guardati loro come le fanno e come presentano la gig e spendi molto tempo sulle parole che scegli il titolo della gig è fondamentale il il video le foto i demo deve tutto sembrare molto professionale poi ti consiglio di essere sempre online su fiverr quindi tieni un browser aperto su fiverr in modo che tu sei risulti online per fiverr metti l'app sul telefono e soprattutto all'inizio cerca di over deliverare nel tempo cioè cerca di consegnare il prima nel minor tempo possibile perché su fiverr molto spesso le persone hanno bisogno non di roba fatta bene ma di roba fatta subito smash sto usando la sony zv1 ho visto un post su instagram in cui utilizzavi le behringer bh470 le uso per mixare ma le robe live per di giornalismo non so se ci mixerei cuffie che costino poco per fare mix le super lux hd330 ottime veramente ottime guarda quanto slappano ste birre birre svapa ragazzi che primizia aspetta che mi carico però la batteria della svapa ha senso fare over sampling lavorando a 96.000 no no non serve cioè fare un over sampling per 2 andare a 192 io stai a 96 sei sei a posto consulenze relative a uno studio di registrazione non le faccio onestamente non è il mio mestiere sto sdoppando un liquido che mi sono auto autocostruito ed è un aroma che ho preso su amazon perché non lo pago e mi sfugge il nome te lo dico subito è il titan del prodotto da nindo corporation secondo me sono anche incredibilmente illegali perché questo qua è chiaramente è chiaramente eren no non è quello del cartone animato non so se hanno i permessi di questa cosa non preoccuparti della lunghezza se è un live posso sistemartelo anche se è molto più lungo benia ad esempio benia è un è un mio patreon e quindi ha accesso al mio fiverr che è privato e soltanto i miei patreon possono ordinare i mix master da me con mac base 12 non l'ho mai usato e non mi interessa usarlo lavorare con mac o windows si raggiunge la stessa qualità sì non c'è nessuna differenza non c'è proprio nessunissima differenza onestamente 681 e 681 evo differenza di suono le 681 evo le preferisco rispetto quelle non evo perché è un filo meno acide e e secondo me è anche un filo più controllato alle basse hanno un filo meno di sustain hanno una waterfall migliore iniziare a svappare con la jazz fog assolutamente sì ne ho mille di jazz fog ne ho letteralmente mille ma in questo momento entrambe le mie jazz fog sono in borsa dell'amorosa ho lì una vecchia g e però per iniziare va benissimo sta esplodendo il computer non ce la fa questo era uno stress test per questo computer mi sa che non ce la fa ho letto che lavorare su logic sottometrica tutta un'altra qualità a confronto no non è vero è esploso è esploso il BM800 fammi sentire ma va a scatti anche il video o va a scatti l'audio del microfono fammi sentire cosa sto combinando fammi sentire cosa sto combinando ah no è la CPU ah no è la CPU può essere no può essere che che sia la CPU provo a alzare magari un po' il Mac ma vediamo se rialzerò il Macintosh con delle Airpods questa è la cosa più borghese che abbia mai detto probabilmente c'è del CPU throttling no purtroppo non faccio lezioni private no no non ne ho il tempo questo è un MacBook Air è per quello che non ce la fa perché non ha le ventole test di cazzo la T2020 è un ottimo microfono per iniziare è molto molto bello che Dav mi consigli per lavorare con Windows ti rendi conto che stai scrivendo su un canale YouTube che si chiama Riperiani a me piace molto l'Himalayan cosa cambia fra i diversi abbonamenti del tuo Patreon non molto in realtà però alcuni perks sono soltanto di chi è da 2 euro al mese ossia l'accesso per avere i miei mastering o il commento sui tuoi brani l'accesso alla review dei brani mi sa che è soltanto quello di 2 euro e non molto altro adesso si tra l'altro quelli di secondo livello avranno anche la beta dei miei VST che penso di fare in settimana uso ancora Vegas sono abbonato ho il Vegas 365 ultimamente però ho fatto un rollback sto usando la 19 di Vegas Piacerebbe no un podcast così non ne faccio più basta faccio i video che ho tempo e basta faccio le cose che ho tempo di fare sono abbonato sono abbonato a Pure Mix penso che sia sia la la migliore onestamente dal punto di vista dell'approfondimento proprio tecnico del mix ultimamente devo ammettere che però lo sto guardando poco però perché ho pagato l'annuale quando era in sconto e sto aspettando il perché di solito al Black Friday scontano l'annuale e quindi cercherò di comprare l'annuale a basso costo al Black Friday Aston Element no non l'ho ancora provato onestamente no nuovo di Brower è interessante ma secondo me lui è lui che non ha capito se stesso cioè lui non lui senza capirlo ha capito dalle cose del mondo del mix ma in quel video si capisce che non le ha capite questa è la mia recensione di quel video lo so che è molto pretenzioso da un mister nessuno rispetto Brower ok ma secondo me è uno che lavora squisitamente distinto e non sa spiegare le sue scelte questo qui è il problema di quel video però potrebbe essere completamente la mia cosa ultra pretenziosa io sono un signor nessuno e lui è uno molto molto famoso però è è un po' questa qua l'idea mi ha dato quest'idea improve your mix rilascia qualche attestata di partecipazione devi chiedere a loro io per loro ho registrato sono andato nella loro sede ho registrato il corso sono andato via fine il lewitt 440 pure è molto bello ma ormai tutti i microfoni sono belli sono tutti uguali senti sto BM800 suona cioè non è non è più siamo uno alle F blonde cosa racconto di bello che sto finendo di scrivere questi maledetti plug-in che saranno uno un mix checker uno un fuori la voce mid-side e con ogni probabilità scriverò anche una roba cioè in mente una roba nuova che sto facendo spesso cioè faccio scorrelare l'audio tra left e right nelle tracce in che linguaggio li scrivo li scrivo in angel script perché li faccio attraverso il plug-in script della blue cat audio costa 99 euro però ti dà tutto un framework anche soprattutto grafico che ti dà una grossa mano scrivere i plug-in e li posso esportare e li posso esportare in VST3 Audio Unit e AX VST no però VST3 sì grazie mille Benia grazie per le 5 questa birra è appena diventata gratis ed è più buona adesso quanto conta la dimensione della capsula beh una capsula incredibilmente grande ti dà indubbiamente delle alte frequenze meno interessanti ma delle basse frequenze molto più gonfie e sostenute e quindi c'è molto più effetto di prossimità quindi se vuoi accentuare le basse di una voce un diaframma largo ti aiuta il diaframma piccolo invece avrà delle basse più lineari e meno calde meno emozionanti ma delle alte frequenze molto più interessanti da qui la pensata della Sony di fare un microfono con due capsule una grande una piccola e un crossfade in mezzo devo farci un video su sta roba ciao fra mac mini 2020 ho assemblato i 5 di dodicesima generazione smash no non so risponderti dipende troppo da quanto drogato sei del sistema mac sicuramente la strada dell'i 5 e i dodicesima ti permetterà in futuro di aumentare la ram aumentare lo storage magari cambiare case e tipo di raffreddamento e pusharlo per più anni il mac è il mac nel senso che lo accendi e va cosa che non si può dire la stessa cosa del mondo windows purtroppo com'è la live è guardabile ancora sta ancora andando a scatti c++ sai cosa è che io non volevo spendere troppo tempo a scrivermi da zero il plugin e non ne ho nessunissima voglia e quindi ho sempre preso delle scorciatoie quale possono essere il jesus script quello in edl di reaper in js oppure appunto il plugin script consigli di schede audio in questo momento hai una behringer hd 150 che non esiste ma ho letto prima che avevi una 440 hd se vuoi fare un passo avanti potresti andare su una audi ntd 44 ci sta non è molto ballo i patreon possono chiedere consigli per produzione mix lo fanno ogni weekend hanno una mail a cui mandare brani io rispondo con un video come facevo il sabato ciao francesco cosa ne pensi delle hollo audio per mix mastering io personalmente non sono un grande fan della ditta hollo perché hanno mentito troppe volte nel marketing in passato e quindi non mi fido sono sicuro che suonano benissimo e sono sicuro che vanno da dio ma personalmente per me è pes ha senso iniziare il conservatorio a 27 anni e conviene fare dei corsi di mastering engineer per diventare ingegnere del suono forse è meglio un corso non inizierei il conservatorio a 27 anni sei un po' fuori sei un po' fuori età per quella roba lì sei un po' fuori età è meglio sono meglio dei corsi ho un sint analogico quando collego l'usb per il midi esce un rumore di fondo fastidiosissimo cosa potrebbe essere mirco di bello hai un ground loop cerca riperiani ground loop troverai un video in cui illustro come tirare dei cavi di massa in modo da evitare questo tipo di audio loop altrimenti ti consiglio di usare una di ai box per interrompere il segnale audio tra tra il sintetizzatore e il tuo computer ground lift e via posso mettere due schede audio e gestire la dow con uno e altro audio con altre certo con i driver ausio non c'è nessun problema non c'è forum che mi aiuta ma l'appollo twin x e appollo 8 xp cambia la qualità audio solo le entrate secondo me solo le entrate secondo me montano le stesse robe secondo me montano gli stessi convertitori non penso che siano diversi i convertitori e i circuiti analogici intorno ho una scarlet 2i2 che scheda audio potrei comprare per fare un upgrade una audient id22 o un'arturia un audio fuse anche anche quello è molto buono sì hai un metodo per streammare su pc lo schermo del mac team viewer devo acquistare i microfoni sono deciso di prendere il thousand thousand lab cos'è che è il thousand town sund prendi il thousand è più bello town sand è very very nice è molto bello lo sphere l22 very nice prendi quello lì tu compri quello lì e non comprare più nessun altro microfono nella tua vita quale suona meglio tra la rev 2 e l'audient cioè audio fuse secondo me suonano uguali sai cos'è una volta in passato c'era molta più differenza tra tutte ste schede audio mo' so tutto uguali posso dire sta roba sono tutte uguali cioè sono cioè sono veramente veramente simili tutte quante quindi più delle volte compri la scheda audio per le feature che ha e non per il suono che ha perché sono veramente tutte uguali può avere senso prendere il behringer xr16 e usarlo anche come scheda audio yes eh l'xr16 prende il multitraccia controlla questa cosa non vorrei che prendesse solo lo stereo perché l'x18 air sono sicuro che lo fa l'xr16 o era il 12 che va solo lo stereo controlla questo sul manuale cioè controlla che la scheda audio veda tutti gli ingressi separati that's that's nice cosa ne penso del mix del microfono a stone spirit suona bene ragazzi ormai nel 2022 se hai comprato un microfono suonerà bene non c'è più quella roba uscite da quell'idea lì di una volta che ah quel microfono lì è molto meglio di questo sono tutti lì sono tutti uguali sono tutti uguali c'è a stone spirit origin i lewitt sono tutti uguali qual è l'obiettivo maggiore che ti prefiggi quando equalizzi in mix la separazione tra le tracce no no quando equalizzo in mix hai una bellissima domanda no io cerco la naturalezza cioè se ascolto un suono di chitarra in un mix e mi sembra una chitarra che entra in un microfono la equalizzo finché non mi sembra una chitarra non so se ha senso questa cosa che sto dicendo cioè non voglio sentire un cantante che canta in un microfono voglio sentire il cantante e quindi per me l'EQ è una correzione del microfono del preamplificatore o della performance in modo che si senta la performance e non le cose con cui sono state registrate che ore sono tra un po' devo andare su a sentire i brani dei Patreon che di solito le live il sabato le faccio per i Patreon però sono appena arrivato adesso ero preso prima e quindi lo faccio in post devo acquistare il primo microfono per lo studio dove faccio trap e pop cosa mi consigli Shure SM7B very nice l'avventura con le Fostex proseguirà penso ne prenderò un paio solo per smontarle completamente e provare tutte le cose più sceme che mi vengono in mente tipo stamparmi in 3D le robe allora l'idea del mascheramento tra gli strumenti mi ultimamente mi pressa meno perché quella roba lì la faccio sui gruppi perché io sono scemo non fatelo ma questo è quello che faccio io siccome nella mia carriera non vengo chiamato per fare le robe bene ma vengo chiamato per fare le robe veloci il mascheramento tra strumenti io lo gestisco a livello di bass quindi io ho un bass che è il mio chord della canzone dove ho kick snare basso e voce e tutto il resto il gruppo con tutto il resto è incredibilmente banda passato nelle medie ok non c'è niente sotto i 200 hertz non c'è niente sopra i 5000 hertz proprio beh in modo che kick e basso sono liberi snare e voce sono liberi i head sono liberi sopra e quindi è è lì dove faccio il grosso dello smascheramento sui singoli strumenti meno tra kick e basso si tra snare e voce no perché quello lo faccio in un altro modo lo faccio con i compressori ma lo spiego nel corso di improve your mix tanto se lo compri io non ci guadagno niente però se lo vuoi comprare è bello un bel corso Duccio la cover di Alibi che hai fatto sentire in un video del Patreon su YouTube con le trombe barocche sarà pubblicata spero di sì ci stanno mettendo tantissimo non è colpa mia cioè io ho mandato tutti quelli che secondo me erano i vincitori loro so che li hanno scelti non li hanno scelti si stanno ancora sentendo stanno sistemando riregistrando hanno un po' perso il treno dal punto di vista temporale a mio avviso però questi sono i tempi un po' di realizzo hai già provato i microfoni Octava? sì avevo una coppia stereo di 012 che mi hanno rubato dall'automobile sfondandomi la serratura della Panda bastardi erano molto belli come faccio da tenere la voce nelle alte solide ma non sibilanti con il Desser comprimi molto la voce dopo il compressore metti il Desser e se si scurisce troppo lo rischerisci non è chiara la questione SM7B perché usare un dinamico in studio perché qui non parliamo di studi qui parliamo di home studio qui parliamo di gente che si registra in casa consigli per la monocompatibilità provala metti in mono senti se cambia troppo la tua canzone se la tua canzone cambia troppo tra mono e stereo è il momento di tirar fuori con ogni probabilità un equalizzatore mid-side e quindi tu ti metti con l'equalizzatore mid-side a lavorare sul side in modo che quando si aggiunge non cambi troppo l'equalizzazione del brano cioè in stereo se in stereo è super brillante il brano e in mono è in scuro è il momento in cui dovresti scurire il side e scarire il mid in modo da avere una roba più stabile ma il famoso U87 come si gestisce nelle voci soul ha un microfono usalo come funziona ora per mandarti i brani se sono patreon ho pubblicato quando era ieri un post che ho scritto manda in questa mail il brano che questo weekend li sento e domani li sento e faccio un video in cui come facevo nelle live li sento no biaretta due no che cazzo non sono mica alcolizzato una più che sufficiente so che vorreste che questa live durasse tutto questo pomeriggio ma ho dieci minuti e poi devo tornare al lavoro it's gone it's gone it's gone ve la ricordate che canzone era porca troia it's gone it's gone it's gone sarà stato dieci anni fa chi se la ricorda daddy daddy's gone modo migliore per registrare un adpan fare tanti test prendi un bel pomeriggio e provi tutti i microfoni che hai in casa a tutte le distanze in tutte le posizioni e trovi il modo giusto di registrarlo perché io non posso anticipare come l'acustica che i microfoni hai che i preamplificatori fai che tipo di musica è veloce è lenta è uno che picchia forte è uno che picchia piano sono consigli molto difficili da dare online e il mio consiglio è se ne hai le possibilità gli dici ascolta non ti faccio pagare quelle due ore qua in più in studio vieni due ore prima facciamo mille prove con mille microfoni e via con l'ava che hai fatto l'hai comprato sì ho postato la ricevuta di acquisto su telegram perché dei malfidenti di merda non si fidavano glas vegas grazie mille glas vegas dad is gone che brano triste è molto bello se vuoi sapere cosa pensano i maneskin guarda il mio video da 200.000 view su tiktok no i maneskin hanno fatto un bellissimo lavoro i maneskin sono il loro hanno capito loro hanno capito come mai i rolling stone avevano fatto successo e hanno fatto la stessa cosa ma nel 2022 no hanno casino casino sto facendo una live entrando direttamente nel su youtube senza obs con portatile di merda tra l'altro vi avviso che abbiamo già una lamentela per il video di oggi perché lo sapevo che sarebbe arrivata un ragazzo non vedente sicuramente non gli sarà piaciuto il video smash e pass io sarò pure cieco ma attenti sei impazzito che cazzo di video è lo so purtroppo signori io ho l'impossibilità di essere 100% accessibile per ogni tipo di disabilità che è presente in Italia è una cosa di cui mi rendo conto e non posso farci niente non posso farci niente se fossi un'istituzione statale potrei farmi il problema di dover essere accessibile a ogni costo ma purtroppo molto spesso mi dimentico so che nei video ogni tanto dico ah guarda guarda qua e non spiego che cosa sto cliccando me ne rendo conto dopo cioè quando mi scrivono per dire fra non ho capito mi è veramente impossibile scusate cioè è è che se avessi il tempo per preparare i video molto prima allora potrei mettere in to do list il sei sicuro che tutte le parti di questo video siano accessibili per ogni tipo di disabilità se no forse cosa puoi fare questo purtroppo per il tempo che ho a disposizione per fare ripriani non ho questo tipo di tempo non ho questo tipo di tempo a disposizione due minuti al termine della live poi vado conosci i shore dei fleet foxes no non conosco cazzo tiktok ad esempio è incredibilmente è molto tossico cazzo porca vacca che commenti che commenti cattivi tiktok ragazzi se iniziate a a farlo menchia non leggete i commenti sono tutti molto 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 incattiviti sono tutti molto abrasivi e se nel senso se già il mio livello di abrasione ok è come il ragazzo che mi ha scritto che ha detto che gli ho augurato il cancro perché mi aveva corretto una pronuncia e poi gli è venuto il cancro veramente cioè se non capite già il mio livello molto 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 controllato di umorismo diciamo dark non iscrivetevi su tiktok perché vi mangiano vivi vi mangiano vivi e quindi è una cosa da tenere conto cioè ho trovato un un pubblico anonimo quindi la gente non si registra con il loro nome e quindi dietro anonimato c'è un'incredibile quantità di cattiveria e di abrasione e di a volte anche scherzosa ok e a volte anche molto scherzosa e se hai l'occhio giusto è anche divertente ma se sei uno che vive un po' nel safe space che non ti si può dire un cazzo non ti scrivere su tiktok e non fare musicista non esporti fare la tua musica ascoltatela a te non ce la far sentire a noi perché purtroppo quel tipo di come si chiama quel tipo di delicatezza non è compatibile con i social nel 2022 e non lo dico per dirti che sei una pussy ok non sto dicendo questo ti sto dicendo che purtroppo i social stanno andando in quella direzione in cui serve una pelle molto spessa per starci perché è la piazza del paese ma è una piazza del paese in cui tutti indossano una maschera e sono molto molto abrasivi nei tuoi confronti e quindi se lo fai io ti ho avvisato ti ho avvisato che non è un safe space per niente come non lo è questo di questo canale questa è l'idea il tempo a mia disposizione è purtroppo terminato detto questo ci vedremo alla prossimo video smash